Ciao, oggi volevo parlare un po' di textures perché spesso, soprattutto magari chi viene da SketchUp dove in effetti la gestione delle texture è piuttosto istintiva e non si deve pensare a niente, quando arriva in Blender a volte trova delle cose un po' strane. Per poterne parlare ho bisogno un momento di costruire qualcosina. Grazie. Ho voluto costruire appositamente in maniera strana proprio perché adesso proviamo ad assegnargli una texture e vediamo cosa succede. Andiamo nel pannello di shading che è quello appunto che serve a segnare le texture agli oggetti e infatti si può notare che si è posizionato qui sotto forma di visualizzazione con texture. Sono tre oggetti in realtà uno contiene il ponte, uno contiene questa rampa e uno sono gli scalini che sono fatti tramite un array quindi sono copiati. Allora comincio con questo primo che ha già un materiale e lo chiamo pietra invece di material e se non ce l'avesse avuto era sufficiente qui sotto materiali, vediamo per esempio questo materiale non ce l'ha, adesso pietra esiste già e lo potrei scegliere dalla lista, ma se non c'è basta premere il tasto new e mi ritrovo con un materiale nuovo. Questo aveva un materiale material, l'ho chiamato pietra e adesso anche questo posso assegnargli lo stesso materiale pietra e anche questo lo stesso materiale pietra, così non importa quale oggetto scelgo hanno tutti lo stesso materiale e lo posso cambiare decidendo di farlo come voglio. Allora rimanendo sulle cose semplici perché un materiale è composto da molte caratteristiche ma base color guardate se lo cambio è appunto il colore principale, preoccupiamoci solo di questo. Allora come vedete qui posso appunto cliccare e scegliere un colore però posso anche collegarci una texture. Come si fa? Aprite una finestra qualsiasi di navigazione e prendete il file della texture che vi interessa, in questo caso lo apro, è un semplice disegno con delle pietre, l'ho fatto in modo che corrisponda ai lati e che quindi sia tutto unito. È sufficiente trascinarlo dentro a questa finestra di blender ed ecco che appare questa casellina, questa casellina la spostate in un posto più comodo e collegate l'uscita all'entrata del colore ed ecco che quindi viene assegnata la texture e l'oggetto avrà questo disegno. Ma appunto come vedete è del tutto imprevedibile e apposta ho modellato in maniera stranissima questo oggetto capire cosa sta succedendo perché guardate se io invece clicco qui sul pavimento faccio un materiale nuovo e lo chiamo pietra 2 e faccio la stessa cosa quindi trascino l'icona del file. Quindi è un altro materiale pur essendo uguale e trascino vedete qui mi ritrovo il mio file esattamente come me lo aspetto però sul ponte no. Prima di tutto cerchiamo di capire una cosa mi sposto di nuovo nella visualizzazione senza materiali questi sono oggetti tridimensionali e da sempre c'è il problema ce l'hanno insegnato fin dalle carte geografiche. Un'immagine è qualcosa di piatto e dobbiamo farlo corrispondere a un oggetto che invece è tridimensionale e la cosa non è semplice. La conversione o comunque il metodo col quale far coincidere un'immagine bidimensionale su un oggetto tridimensionale in gergo si chiamano UV e quindi le trovate per la modifica in questo pannellino UV editing. Questa impostazione delle finestre di Blender è pensata apposta per modificare le UV cioè spiegare a Blender in che modo l'immagine deve essere fatta corrispondere all'oggetto sullo schermo. Per esempio guardate sposto anche questo visualizzatore in maniera da poter vedere i materiali e come vedete nel pannello UV editing l'ultimo oggetto che avete scelto è già in modalità edit mode. Quindi se io qui seleziono per esempio questo piano e mi sposto su UV editing avrò il piano selezionato già in edit mode. Se invece in un altro dei pannelli ho scelto che ne so le scale vado in UV editing e mi ritrovo le scale in edit mode. Partiamo quindi dal piano che è la cosa più semplice. Allora il piano in edit mode è fatto da un'unica faccia quadrata e per quello è facile farlo coincidere con l'immagine. Sono in edit mode quindi posso comunque selezionare questo lato del piano e per esempio premo la E ed estrudo verso l'alto questa faccia. Adesso come vedete qui la texture non funziona più bene se adesso la estrudo di nuovo di qui queste sono facce nuove ma in qualche modo continuano a ripetere solo un pezzettino dell'immagine. Perché non mi ritrovo le pietre qua perché sono facce nuove e devo dare le istruzioni a blender su come mettere la texture qui. Questo si chiama appunto modificare le UV se voi premete questo tastino qua in alto a sinistra farà in modo che quello che voi selezionate su una delle due finestre corrisponda anche in quell'altra. Quindi se mi sposto nella selezione facce e seleziono questa faccia scoprirò che corrisponde come vedete a tutto il quadrato ma se seleziono quest'altra faccia scopro qui che è una riga ed ecco perché corrisponde a questo lato qui. Se seleziono questa di nuovo qui c'è solo una riga non c'è una faccia devo in qualche maniera queste facce qua nuove farle coincidere di nuovo con l'immagine. Queste cose in blender si fanno con la U quindi se voi selezionate delle facce quindi seleziono questa adesso solo questa con la selezione facce premo U e scelgo unwrap. Blender automaticamente mi prepara qui un rettangolo corrispondente a questo rettangolo e che quindi riesce a dare le informazioni necessarie su dove andare a pescare nell'immagine per mettermela qui. Di conseguenza se adesso che ho selezionato questa faccia per esempio premo S per scalarla qui e la rimpicciolisco vedete che di qua si ingrandisce perché in pratica quello che io vedo qui la posso spostare con la G e qua si sposta. Quindi quello che io faccio di qua questo rettangolo che vedo qui corrisponderà a questo rettangolo qua se l'aumento così tanto da renderlo più grande dell'immagine lui la ripeterà e quindi i miei mattoni diventano più piccoli. Quindi imparando questo concetto adesso questa faccia è qui se la scalo e la ingrandisco ecco che si rimpiccioliscono anche lì oppure la posso rimpicciolire. In pratica queste UV sono le istruzioni per Blender su come la mia immagine deve essere interpretata nell'essere appoggiata sull'oggetto. Quindi vedete seleziono una faccia premo U scelgo unwrap me la ritrovo qui pronta diciamo in un modo automatico che ne rispetta le proporzioni e quindi qui posso poi andare a cambiare il comportamento. Tra l'altro se cambio qui la forma e ne cambio le proporzioni vedete deforma l'immagine in maniera che corrisponda anche qua. Quindi se la deformo in una direzione è come se succedesse l'incontrario. Quindi questo è il concetto base dell'unwrap delle UV. Seleziono queste due facce premo X e le cancello e come vedete sono scomparse anche di qua. Non mi interessa che il materiale sia questo però almeno abbiamo lavorato con una faccia sola e un pochino possiamo aver capito qualcosa in più. Su questo pezzettino qui selezionarlo vado su UV editing ed ecco cosa scopro. Scopro che queste facce sono disposte in questa maniera dentro alla mia immagine. È chiaro che non è il modo migliore. Quindi quando io seleziono questa faccia me la ritrovo qui selezionata potrei ingrandire e quindi andare e posso anche ruotare. E quindi vedete piano piano posso ottenere quello che voglio però è molto tedioso farlo per ognuna delle facce. Può essere fatto automaticamente e può essere fatto automaticamente secondo vari modi. Quindi se io invece di una faccia le seleziono tutte con la A e premo di nuovo U e scelgo unwrap. Blender da solo mi farà un unwrap alla buona di quello che vede. Però come vedete ha creato anche tante deformazioni e non sa esattamente cosa fare. Premo la barra sul tastierino numerico per isolare solo questo oggetto in maniera da poterlo vedere. Quando premo U ci sono altre voci. Un modo di proiettare le facce per questo tipo di oggetto che è molto cubico è proprio Cube Projection. Se io scelgo questa ecco che in pratica Blender cerca di proiettare dall'alto, da davanti, di lato e quindi ottengo un risultato più simile a quello che vorrei. A questo punto devo solo come abbiamo detto selezionare le singole facce ed eventualmente andare a ritoccarle un po' di più qua. Per esempio se trovo che i mattoni siano troppo piccoli posso selezionare tutte le facce, di qua o di là non importa. Premo Scala, ingrandisco tutti insieme ed ecco che i mattoni diventano più piccoli. Premo di nuovo Barra in maniera che ricompaia tutto quanto. Adesso che sappiamo come fare, premo Tab per uscire e poter selezionare un altro oggetto. Premo Tab di nuovo e scopro qui che il singolo scalino, torniamo un attimo di qua, il singolo scalino se avete guardato come l'ho ottenuto, l'ho ottenuto da un semplice cubo allungato. Andando a vedere le caratteristiche vedo che ci sono dei valori di scala per Blender. Quel cubo è ancora un grande cubo scalato. Infatti nelle UV riconosciamo questa forma tipica che se avete mai costruito un cubo con la carta corrisponde effettivamente allo sviluppo di un cubo. Però questo io l'ho modificato in larghezza, non è più con tutte le facce uguali, è diventato un rettangolo. Io devo applicare la scala, premo maiuscolo A e scelgo Scale, adesso ho applicato la scala e questo ha come valore di scala 1. Non è più un cubo allungato ma è effettivamente un rettangolo esattamente di queste dimensioni. E quindi se ora faccio U e scelgo Cube Projection ecco che ottengo dei rettangoli nella mia scena che sono quelli degli scalini. Guardate se io adesso torno indietro, faccio un po' di annulla e torno a prima dell'applica scala, vedete questi valori di scala che sulle X è molto lungo e sulle Y e Z è piccolo. Se vado dentro adesso e premo U Cube Projection, lui continua a pensare che questo sia un cubo normale allungato e quindi lo proietta come un cubo con le facce tutte uguali e poi lo allunga. E di conseguenza vedo tutte le immagini strecciate. Quindi ricordatevi anche prima di fare l'unwrap in Object Mode, CTRL A scala, se avete fatto delle modifiche e avete deformato gli oggetti, in maniera che poi quando fate U Cube Projection che sia corrispondente alle vere dimensioni. Me le ha piazzate tutte lì in mezzo e quindi magari potrebbe essere comodo. Adesso premo questa faccia qua sopra, la sposto un po' in giù, poi appunto la ingrandisco. No, troppo posso, ops, non qui, attenzione a usare la finestra giusta. La ingrandisco così, poi prendo questa faccia qua davanti, la sposto in maniera che corrisponda un attacco all'altro. Quindi la sposto giù così ed ecco che l'attacco sullo scalino corrisponde. Non corrisponderà a questo qua sopra, per ovvi motivi, però in questo caso per esempio funziona meglio. E questa cosa la potevo aggiustare anche qua. Quindi questa faccia qui davanti e questa attualmente non sono corrispondenti. Questa qui si trova lì, questa si trova qua. Se io, questa qui è quella che mi interessa meno perché è quasi tutta coperta, se la porto su qui con la G fino a farla corrispondere alla parte alta dell'altra, oppla, ecco che adesso il bordo dello scalino corrisponde. Si può avere anche molta precisione da questo punto di vista. Adesso questo è più complicato ancora. Se io qua adesso seleziono, entro in added mode, seleziono tutto, vediamo cosa succede con Cube Projection. Ecco, fatta Cube Projection, come vedete abbiamo sempre dei problemi di deformazione. Allora intanto verifichiamo la scala. Sì, vedete che non è applicata. Quando è applicata vedete 1 in questi valori, che potete trovare anche qui se non avete aperto il pannellino. Quindi se premo CTRL A e applico la scala, e poi vado di nuovo in added mode, seleziono tutto, U, Cube Projection, adesso la proporzione qui è più corrispondente. Queste facce non sono rese nel modo migliore. Selezionare la prima faccia, CTRL Shift, in maniera da selezionare l'intera riga, e poi CTRL Shift, clic sull'ultima, ed ecco che ho selezionato tutte quante le facce. Posso provare con U a scegliere Cylinder Projection, e però il risultato non è buono perché in realtà questo cilindro è proiettato in un'altra maniera. Facciamo di nuovo Cube, ecco, però dobbiamo un pochino regolarle, ruotare per esempio in questa direzione. Adesso abbiamo ottenuto sicuramente un risultato migliore. Quindi anche qui, prendo prima tutte queste, U, Cube Projection, qua ho le facce, le ruoto perché non erano orientate nel modo in cui volevo, scalo in maniera che diventano più piccole, e adesso mi corrispondono. Poi scelgo anche queste due e queste tre, U, Cube, le ruoto, scalo, e vedete in questo modo potete decidere di ottenere esattamente quello che volete, anche queste. Queste appartengono tutte allo stesso piano, per cui un trucco per selezionarle tutte senza diventare matti, è sceglierne una, poi premete maiuscolo G e come vedete c'è Select Similar, quindi seleziona facce simili a queste, e se scegliete Coplanar, seleziona tutte le facce sullo stesso piano. E quindi anche qui, U, Cube Projection, e la scalo, e vedo se stanno bene così. E la stessa cosa di qua, seleziono una, maiuscolo G, Coplanar, in realtà non mi serve fare U perché vedo che è già così, premo S, scalo, lo faccio grande più o meno come l'altra, magari la sposto un po', in maniera che i mattoni da questo lato siano diversi da quelli che ci sono dall'altro lato. Questo qua per terra non ha senso che il materiale sia questo, adesso un attimo lo tiro via, questa pietra 2, può essere un po' macchinoso, ma il concetto è esattamente questo, che in UV Editing noi diamo le istruzioni a Blender su come la singola faccia deve essere mappata all'interno dell'immagine. Per cui in realtà noi potremo anche ottenere delle cose molto particolari andando a cambiare anche semplicemente una faccia, questa singola faccia che si trova lassù e portarla da tutt'altra parte, ruotarla e magari ingrandirla per dire, e posso cambiare su una singola faccia il comportamento della texture. in qualsiasi momento, anche cambiarne le proporzioni, basta scalare, quindi cambiarne le proporzioni. Se in qualsiasi momento volete tornare, diciamo, a una funzione di default, potete semplicemente selezionare la faccia, premere U e scegliere Unwrap e ve la ritrovate mappata sull'intera dimensione della texture, oppure appunto U Cube Projection, è abbastanza comoda nella maggior parte dei casi per le forme che hanno come un cubo dei lati e poi appunto è più facile andare a trovargli un miglior posizionamento. Il discorso UV è complesso, però spero di avervi dato almeno una prima infarinatura per capire come mai a volte voi applicate una texture e vi aspettate un certo comportamento e non c'è. Come vedete anche questo uso di una semplice immagine come Base Color permette facilmente di anche integrare quelli che potrebbero essere i vostri segni e disegni sopra a un oggetto tridimensionale. Se vi spostate in questa modalità dove le ombre sono ridotte al minimo, anzi non ci sono, c'è solo un minimo di parti in ombra dove le cose sono nascoste da altre, potete ottenere qualcosa di molto simile a un disegno, a un normalissimo disegno utilizzando semplici texture e potendo quindi andare a inquadrarle nella direzione che vi serve e ottenere la prospettiva che vi serve. Ricordatevi quindi anche che quando andate a modificare un oggetto per qualsiasi motivo vedete che le UV ovviamente della parte dell'oggetto esistente non vengono modificate, ma della parte nuova che state costruendo ovviamente non ci sono. E quindi nel caso lo abbiate fatto dovete tornare in UV Editing, selezionare tutta la parte nuova che avete fatto quindi nel mio caso è questa e potete fare U e scegliete unwrap oppure ancora meglio cube projection se è qualcosa che appunto assomiglia a un cubo in questa maniera ve la proietta nel modo più naturale e poi in questo caso scalo e a me va bene questa soluzione e quindi ecco qua che ho dato le istruzioni su come trattare queste facce nuove e avendo scelto cube projection tra l'altro vedete lui si accorge che queste facce sono tutte unite e quindi non ho questo problema di passaggio ce l'avrò tra un lato e l'altro del cubo quindi tra questi due lati non c'è continuità mentre invece tra questi sì se volete il massimo della precisione ovviamente bisogna fare queste UV con calma ma in molti casi semplicemente vogliamo definire appunto in che direzione posizionare per esempio una texture di legno o in questo caso appunto di pietro o di mattoni finiscono per essere nella direzione sbagliata per cambiare la direzione di una texture appunto è semplicemente sufficiente selezionare nella modalità UV editing le facce alle quali ci interessa cambiare direzione e poi nella finestra qua dell'UV se avete cliccato questo appunto ricordate di se le ruotate di adesso io le ruoto di 90 gradi perché ha senso ecco che i sassi si sono direzionati dalla parte opposta e se scalate potete ottenere proporzioni diverse quindi se per esempio la scalo sull'asse X e l'allungo ecco che tutti i miei sassi diventano molto più piccoli e quella che era una texture di pietre ovali è diventata di pietre più tonde perché ne ho cambiato la proporzione l'argomento è molto complicato spero però di avervelo messo per intanto nel modo più semplice possibile perlomeno quello che basta per poter appiccicare un proprio disegno o anche una texture che può essere una fotografia ai propri oggetti tridimensionali e cercare di dare la forma che vogliamo o comunque di ottenere un risultato che è quello che ci fa più comodo grazie e al prossimo video